La più bella è suonare davanti a tanta gente, dubbiamente, più che prendere qualche soldo di più del solito, cioè il pubblico, un gruppo vive per il pubblico. La situazione là, da una parte musicale, è il massimo. Sotto altri punti di vista è meglio l'Italia, però musicalmente là si suona, si riesce. Ci sono un sacco di club, un sacco di case scografiche, si respira un'aria diversa, la musica lì diventa molto più importante. Che cosa fare se in mezzo c'è il mare, quando i sogni devono cambiare, non sempre partire, vuol dire arrivare nella direzione uniziale. Che cosa fare se in mezzo c'è il mare, non sempre partire, vuol dire arrivare nella direzione un'aria diversa, la musica lì diventa. Grazie a tutti.